Soprattutto cos'è importante? Sono importanti gli obiettivi che abbiamo perseguito con questo bilancio, sono prevalentemente tre. Fine a Scroccopoli, completa fine di Scroccopoli, quella che abbiamo visto fino a questi giorni, non ultimi gli interventi sulle case occupate. Due, non aumentano le tariffe, non aumentano le rette per gli asili nido, non aumentano le rette per il trasporto scolastico, non aumentano le rette per le mense scolastiche, non aumentano le rette per i mercati. Tre, investimenti, investimenti soprattutto sugli ultimi. Ai municipi quest'anno vengono dati, con il bilancio di previsione, 36 milioni in più da investire sul sociale, per un totale complessivo di 271 milioni di euro. Ai municipi vengono dati 30 milioni in più per investimenti straordinari sulla manutenzione delle strade sulle scuole. Ancora, investiamo altri 28 milioni sulla manutenzione delle strade di grande viabilità e 65 milioni di euro vanno per gli investimenti sul dissesto idrogeologico, per contrastare il dissesto idrogeologico e per avviare il lavoro di rifacimento delle fognature di Roma.